Per il New Jersey Simone Rosada per Santillus Finta a tiro da tre, va fino in fondo E recupera a rimbalzo, Dario Maran Al Santillus Ma in best blood E' un po' di due punti più il fallo Santillus, bomba da tre E la me Santillus e schiaccia Due punti E' un po' di due punti Ma non riesce a trovare La soluzione Tipo quella da Santillus Che va con una schiacciata a due mani Di Diego, vicino da tre Parabola ancora corta Massan E questa volta Gabriele Fabris Innesi Santillus E si alza e prende un bellissimo tiro Supera la palla a Santillus in difesa E va con una schiacciata Mancano 40 secondi alla fine E' un po' di due punti è probabilmente insieme a Iesolo una delle squadre più forti del campionato questa squadra si prospetta una delle sfide più interessanti di questo 2016-2017 sono fatti attorno e cercano di capire viene recuperato un altro pallone da basket maestre con Santillus che si alza ancora una rimessa Santillus che prova la bomba da tre molto lungo per Piegovic per una schiaccia anche dall'infortunio di Chinellato recupera la palla al basket maestre con Stani Bozzensky che scusatemi Santillus è adatto anche Lugo tre grande del stossata scusciamo al Santillus si blocca spara di nuovo per Pucchi tiro attivo che ora cerca di entrare Cucchi da tre biegovic da tre santiglius biegovic da tre bellissimo non riuscita ma sottose santiglius capellone ma recupera palla trottando come un leone santiglius canestro bellissimo intanto la sista santiglius canestro si gira dall'altro lato e rosada si trova legato e passa per 6x portapalla da tre santiglius e dall'altra parte si risolva l'alizzo l'alizzo mette una santiglius 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 da tre bomba tira pinocchio che non realizza santiglius spessore grande scaccia dolci forza due secondi segno il sacco assurdo è l'aglia Mario Maran cost to cost santiglius aria molto affollata pallone in tappi rosata grandissimo fuori per Rubin capisce tutto santiglius si avvicina il ferro e ha due mani blocco casa grande santiglius rupa palla e consente recupero ferma biegovic tocca palla santiglius e ora va a correre la squadra per il basket maestre dove al santiglius lascia non scappare marco pretta che però strato sferico di al sen lui quando ha lo spazio si prova perché sa chi ha le caratteristiche per farlo al sen santiglius non 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 ne Grazie.